Leonardo Silva Revisore 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 ...si anche lei a cabala? Beh, e spiegare e far comprenderci se anche lei la cabala e le palline. È una maniera di decorrere. È una filosofia di vea che si dà aia, È una qualità o un default, se non come una viva. Che la fea appresa non è mai da Aia Iassin, ma che tutti i raccogliano. Però mi ricordo, c'è anche un bel genio iniziato a dire? Ma ho, in una canzone del paese o del genio, che è aia, c'è un gros paese, pieno di sabo e pieno di spri. D'accordo! Ma ho, più che l'abbia a mia corretta che le staventano rettere a San Giacomo, l'Ecrei. La popolazione d'Aias è tra intellegente. On dice che c'è il popolo più spirito del Val d'Aost. Ma non c'è parte di dire che la natura è attuffata per l'esprit e che la franchise sia sempre un problema criblato di pochi d'interrogazione. Oh, oh, ma tutti i morti! I peggiori un d'Aias in vita di fura! L'Aias in capo della giacaballa! Le su come da chansone! E noi i paesi d'Aias facendo i sederli e nemmeno la caballa. Sulla l'Aia, Iassin! Oh, ma le gente aias si sono cresciute a Zettercula. Tanti sono venite maestri, chi piace, chi pensa. Da caballa, ma per sai, e l'Empia fa conoscere a fondo le comunità del posto, le storie di tutte le famiglie, i peti segreti di tutti i individui. E il suo Coran, che c'è anche l'incapettazione giorno per giorno. Oh, io mi fa conoscere i finestri del linguaggio, eh? E le spette presente, rispondendo da subito, e più è inso del linguaggio tagliante. Eh beh, oi oi. Ma c'è anche di oggi già un sallongio del linguaggio dei caveri, lo veterinario che le sta nella via sul Paolo delle Venzone. O di oggi continuo, che è meglio che l'età dei tanti d'Aias, le aggramma del linguaggio. Ma per i tanti di fura, le passi in più comprende a caballa. e sicché hanno un par di co, e mi sono che i aiassini, e se vuole un moccato dell'ur. E per i pezzi vengià, e hanno pensato ad impiare un'espressione, fra i tanti d'Aias e io, e sono tanti figli che i Rebeco. La caballa da trecò, le impiava un conto, soprattutto per sederli, per livelli, però oggi si va a perdere. Oh, come tutte le tradizioni, eh? Eh, ormai. Le è una sorta di linguaggio che consiste a pregiare un argomento, di una gente e di un'aria che le ha incapetta, senza nemmi pregiare. Invece ad allusione, si riferisce a delle cose che tutti conoscono, senza le dire in verte mano. In giù in sui moti, si muocchiano di uno e di altri, senza essere troppo grossi. e una finestra di spre, che le ha il risultato dando pratica. Oh, oh, e più, non puoi pregiare l'ongi e puse, senza farmi dire lo non, né di una chiusa, né di una gente, né di un posto. Fammi che sei con tu in le mie mereie e sei buon di stare giù. Oh, oh, se ne crede. Allora, all'invece con lui sono buon di stare giù. Allora, vieni, vieni. Allora, all'invece. Che stufi, adè. E che noiosità, e che paresse, e che paresse, e che noiosità tremenda. Tutti i giorni, e tutta la resta da mia via. De pensioni ne impregio un po'. Me fudrà copassare carantanze e al suo groberge di cinque e tere. E l'epicorrenzo c'è. Me fa più quente razza la razza di direttore. Se le spesse di merlo, i piume rosse che ne è. Non puoi pa mai. Nianca mai lo giornale, buon all'ere. Renche di bussanade, te rotten. chiesto fiora, nianca solle buon all'ere. Ma per chance che i modi crociati, ci siamo come fare. Ci c'è una chiusa buon ben interessante. E cadeletta. Avete a cè. Avete a cè. Trent e sed pedreit. Trent e sed pedreit. Hanno u cent pe cent. C'è t'avete troppo simpia. I travajer son cè. Direttor. Eugista finge l'eel. Un pedreit. Già anche la trodde impegni. Sulla so io. Pericre. Eugista. 42 pedreit. Ma già un piccozzetta. Solide senza carri vive. Solide senza carri vive. Le uniche non sono bocce. Uniche carrione. Che razza danno. Le uniche carrione. Le uniche carrione. Ehi, sono un grande carrione. Ehi, sono un po' po'. Pronto, grande obergo e testa grigia. Le l'oportie pericola all'apparecchio. Come poi sei davo? Ma che razza di una maianna che ti è? Ma no, no, ma stella, ma sono pa' marito te. Ma tu sai che ti è lo mio amore? La sola ragione da mia vera lo sa. La mia figlia è la mia vera. Ma tu sai che ti è la mia vera? Ma tu sai che c'è la mia vera? Ma tu sai che c'è la gran legna di prenotazione dell'auberge? C'è la testa grigia. Oh, direttore, ruvo qua che te mi telefoni. Eh, sappai io. Che ti devo dire? La rada è triccata? No, ma ora avrai appare. Ma te hai detto che ti ammi a chi era, mia lena? La mia lena non è a noi senza stare. Oggi, oi, oi, le mie fanno i fanno di nebbia. Oggi c'è l'autostrada piena di nebbia. A dove ora un mattino, oi, ma ti è anche te. Oio, oi, lo mio ratino è io e il verde. Va bene? Sono d'accordo. Va bene, lo sa, lo sa. Oio, oi, avete, ti è più bella, la più bella mogia che io, Marcia Dutta. Te hai già mai detto che non mi pare, oi, oi, oi. Ma ora, Murce, fa riattacare. Ma già che? Ma se l'arriva. Ma tu sei, cofetico. Deve che stiamo per... Va bene? O sa che una telefonata non già aveva. Ma tu hai la mia lista, una chiara ci sceglie. ma te tra con te perché? Ma te tre ho tra Due. Va sarro tro, con te 32, gesti te pescolti o sei io, Yutamotang, va bene? A buona emo? Mora fudi reattacare. Ma bene, tre. Pausa la cornetta. Clocko, clocko. Se to fer,ipperò te, veta, ov Geoffo io e. Ma te tre ho attaccio. Ma riattacca, buonga gente, che c'è una minuta all'arriva, ti fai sembrando essere una madame, ma dietro, cara. Ma riattacca, peccerezza, ebbene, buonga lo faccio io, che razza di una maianna terrificante, non puoi far mai. Questo è il peccato, è noio, eh? Pronto, gran oberge, testa grigia. L'aeroportier pericola l'apparecchio. Ma bonjour, madame! Madame, ma come se ne contende recentino! Ah, io, io, già che lo sa che viene domande, viene domande. Come è? Lo vostro amore? Su Sarkozy? No, no, madame, n'è pa' ici. N'è pa' c'è l'issteria! N'è un sussur, n'è un ca' solo gros libro della prenotazione? L'è un pa' marcat. Come è? Viene con voi domande? Lo sa che viene con voi domande, vos attendem? C'è, se frangarca. Ah, oi, venez pever lo gran tor di 4 kg in 4 giorni. Eh, c'è talone, c'è l'attrazione che non può pa' manca, eh? Ma non ho, madame, ma io non ho frangarca, 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 non ho frangarca, eh? Com'è? Oi, mi sembia frangarca la prima giornata, si è assa, do birro colà. A seconda, io ho polenta grassa, che volevo che io sia. Per trezima da sopra. Io ando me pare. E il quattro e miglaio? Il quattro e miglaio? Se lo sai che mi mi mandi, e già che io gli ho chiesto un tot cent che io ando che ti giocano, eh? E chi gagnerei? Ma è troppo semplice che io prendo 4 kg in 4 giorni. Come viene con vostra amica? Ma non è possibile. Ma lo sapete che le tue piena in questa oberga? Non è mai un burin. Niente pagare l'or. Ma già che sa qui se vuoi madame? Ma lo sa, lo sa, lo sa. Già che lo sa che se vuoi amici del direttore. Ebbene, dunque a Arie facciamo più su. Arie vienem più di fare, va bene. Vos attendiamo per domani, madame. Tanti domani. Arrivi, eh. Oi, madame. Già, vo salvo. C'è... C'è di gran commercio. Ti puoi riaffermare una minuita? Oi, ma sai che tu? Escutami bene. Ti è tu upare la ciambrera di queste oberge del lusso? Come io sono gran portiere direttore dell'entrata. Oi. Io sono la ciambrera di tutti i portieri. Ah, dunque? Ah, dunque? A te fudrei reddrezzare. Non sai che fudre ho già? Ah! Mi sembra di farmi. Avete c'è che commercio ti ha piantato a me. Io ho pianto c'è commercio. Io. Tu peler! Ti è noi e buon dann. Avete c'è di farci le scuole su patina la pussa. Va bene, pare? Va bene. Mi sembra che ti faccia buon danno la firma. Ti è comandato ora, non vuoi direttore? Sì. Mi sembra che ti faccia buon danno la firma. Ora te so veno che è lo nostro direttore la te, che per lo gran tor di quattro kg in quattro giorni, te cet'aubergeo dei lure come un merio, come li tuoi pantaloni aveita, e c'è anche i aroni i miei pantaloni aveita, te devo dire io aveita te, me sembra che ho frango un bel garzonte. Voi mettete i pantaloni, ti è strafugnato. Strafugnato sì. Io sono colmo il mio patino, ma il pazzo è che, su da se non ha passato che io pegavo la possa. Te esagire. Avete, perciò è l'accio. Se tu ti guardi, io, in quattro quattro uoi, voi, queste ratelette li bruciano le cose, sono come noi. Entra a me, sei l'accio. Ma fai chi va là del re? No, ma ascoltate una minuteta. Tutte miserie che io ho, lo gran portier di cet'auberge del lusso, mi pegavo le pantaloni sulla recepcion per ricevere i monsieur un galesson. Ma tu ti stai là da ricacciare, e io ti torno a portare, buccia a te che puoi pagare il tuo giorno. E se l'arrivo a valise? Come fai, non c'è tuo galesson? Ma ti guardi i pantaloni, buccia. Ma mi sembra un po' per strafugnare. Niente che fosso di soffietto di un organismo. Niente che più strafugnare. Ma te l'hai mai detto ognuno che ti ha una gran gramalenga? No, te lo devo anche tu. Doro. Ebbene, se franto e sesto ti avevo piegato in questi pantaloni, che ti devo dire. Ma a te avete te più anche le fatte le stesse. Noi, ma bugia a te. Bugia a te? Avete anche la giornata, le collone già. Eh, lo so. E mo fanderavo tutti. Eh, che ti devo, te. E niente. Segui i miei pantaloni. Ma fai te ve? Fai tutto. Che be' ti gale songe. Che be' ti gale? Troppo be'. Tu puoi vendire le tue fisiche di un ruolo latin che mi ritrovo. Ora vat te cacciare per piacere che niente vea, va? Io torno a sabato. Ma per te cacciare per piacere che se l'arrivo a valise. Sì, gli hai fai una cuglietta. Vat te fai una cuglietta, ora. Sono perduto. Portier. 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 e se cacciare i pantaloni e la menetta, e dice che cacciare la riva. E benvene a portierle a sede del re. Suoi uffici. Ciao amooor. Grazie a te una fula maiana. Che ti e' due, Shushu? Re in chiera di mie ue, te l'hai già detto lo che ti ha chiesto in chiamato il setto berge e la mia luna della noi teppa. Ma come ti ha detto, vieni se donami un po' ti. No, lo tuo amore è un po' bugia, nanna. Ebbene, dunca, se tu è un po' bugia, vengo io. Vieni, sei tu, bugia, te l'hai già detto, tu sei soppari crentusio. Ma come ti ho gari, tu hai anche un po' tinta, mi dico. Tu puoi ben dire, sei un curander che hai una chiusura. È una visa tremenda. Mazzà, ma te l'hai già detto che non ti ho finito, non ti ho fatto, non ti ho già comezzata su quattro k. Bossa, no! Mi sembra di essere un mentone di caccia in piena vera! Una fretta! Zà, zà, zà! Degaggia a te, che a me mi fai! Ashton, ma ti è frante dei pantaloni tu, eh! Ti hai vio? Ti hai vio? Che bello! Sono finché commodo! Franti bello! Tu c'è da curanderia né pa, eh! Ti sei, mi sentite a vestire bene perché mi fai vedere l'autorità del 4K, gli atleti e... Allora, vieni a me, non ho un pochettino! Ebbene, se frante è un sesto, amore, però chiudere, io vieno, eh! Va bene, chiudere, ma contate anche cinque, e più euro! Ebbene, contate anche cinque, ma piang! Un, due, tre, quattro... Un, due, tre! Oh, mio Dio! Ti ho detto che la rivela, io non ho usato! E ti ho messo il mio telefono e conto! E ti viene fin, eccetera, e ora la rua! Poi sembra di essere una madame che è sempre perduta la rua sola! Ebbene, dunque, cosa che puoi dire? Ecco, ecco! Le tutte le cose, eh! E che lo fai? Invece fosse un lavoro, io fai buono di madame! Già, Già, che fa un palè! Invece di me rispondere a zà che le domande... Uff, 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 uff... Ma sei buona? Tranquillo, una minuta... Pronto, pronto? Che l'altro? Le tre tre pia, era l'apparecchio? No! Washington! Washington! Ma... E' Washington c'è nell'apparecchio, Monsiero Direttore! Washington? Washington, già che! Washington! Yes, yes! No! Ah! Da buon! Come? Dei White House! Che capito? Tutti è chiaro, Monsiero Direttore! C'è, dentro l'apparecchio! Eh! Nello gran miete bianchi! T'è bianchi! T'è bianchi! Tu che gli sta lo Presidente nero! Ebbene ho un membro che venga portando... Nostro governemant! Pericle Pusa! No! C'è anche? Yes, Mr President! This is.. The Slipp Hotel... Ma no Slipp Hotel! No! Lo Berge di... No, non lo Berge di Galesow! No, no! La gran mutanta grigia! Ma no cosa? Pechere è ta! Graan hotel, resort, Berge, testa grigia! Sì, direttore, è tutto bene. Pericoli che ti occupi di farlo fuori nel fine con l'agenzia? Faccia pazienza madama, l'anno, l'anno anche l'anno. Oh, anche? Oh, oh, ma se lo presidano, il nostro direttore lì, sì. Com'è? Grosso? Ma vedi, a me fa un grosso, ma sembra un gran anno il nostro direttore. Sì, non c'è una gente struttura come portiere, sì. Hai un ricordo che vuoi? Ti ho capito, vai. Pericoli che ti occupi di oggi. Pusala! Io, io del portiere fuori pari, ma che vi dice il vostro grande hotel testa grigia? E se sei sempre che vengo in foglio da te, grande testa grigia. Ren! Com'è? E allora? Io c'è un gioco belge, c'è un gioco direttore, c'è un gioco portiere, e c'è un gioco finché lo socio! Grazie! E dunque? Chi è il tuo conto? Chi è il tuo conto? Chi è il tuo cliente? Il cliente, il cliente, là! Ma fa capire, signor direttore, che c'è? C'è una questione dei servizi! C'è un gioco, che dice, oi! Prende la chiusa lo sindacato di ciambrere. E già che ci sono... E io ho conto un fai agitazione, io non so. Prende i papi di varte di bullette di leva, che paghè mai! E non ha mai avuto. E paghè la zacciera che puccia un tacacchi per da tir, per piagì! C'è l'ora e c'è un gioco, mutatis mutandis! C'è, ti comprende? Le trattano a me d'onda! Ma... Quanto mi fai, Bollet? Ma... Ma ti è in calcione? Senza pantaloni? Ma io ti ciasco, su due piedi ti ciasco! Eh, ma erano i piumi rossi! Debbè c'acceria su due piedi, ma tutti i piappi di calcione! Fai attenzione! Già che fai attenzione sexy per dire a paiana! Ma vè... Ma... Vegli a te! Porti, porti! Ti caccio! Obergi di questa grigia? Oi, madame! Chi è lo direttore? Ma io, madame! Io ho riservato la cambra numero 27. Chi è lo porti? Io, che razza di domande! Se c'è il stromello, direttore, c'è l'acqua! E c'è per voi la valise! De mon che bella valise! Ma poi è che sembra su crocodile! È più australiano! Lo puoi dire? Le costavano noi da tetta! Lo credo bene, eh! Voi fa sapere, signor direttore, che super vecchie? Eh? I crocodile? I crocodile? Eh? E' un po' di vento, il carnetto, il banco! Bella valise, madame! Ma le belle, le robuste! Ma le pesante! E fa che mi porti su! Magari lo porto più su io? Come vuoi? Come vuoi? Lo gran direttore dell'Uberge! E' un direttore che fa il portiere! E' un po' di vento! E' un po' di vento! Ma io ne manca! Io sono tutte le mie giuste devono! Io lo cottino per la sua re! Io li rampino! Io li ho la pecca! Io gli ho la scarpino! Io gli ho la necessità! Perché io sono pazza per fare lo cattro per cattro, eh! E neanche per portare le mie amme! Perché dei cattro per cattro, nei giapri, sono sempre per fare alto alpinismo! Già che c'è dentro il vento del crocodile e non è giusto, eh! Ma... Tranquile! Tranquile! E' un minuto faccio una pormona e la valisa sarà più in cambra! Ma d'una pormona? Ma utro il salù! Lo tengo, devo essere ebreo, no? E devo dire lo menù di cena! Va! Tranquile! Va! Ah, tutti i uomini! Range? Va, va, va! Ma, che sotto? Il pantalone! Ma com'è? Riuscrivi a voi dei fromaggio? Ma crì! Lenga dei pernici a voi, 4 piume! E il sesso di San Bayon! Ma no, no, che scrive! Per me! Rappa di polenta a voi, del cagliare il pelo! Ma che rappa! Almeno c'è polenta! Riss sulle izzele? Ah, ris sulle izzele! Non c'è polenta! Non c'è polenta! Non c'è polenta! Non c'è polenta! Ma io poi poi mi piace, sape che che gianna io! Vieni le seconde! Seconde! Attenzione! Ma le ho bene! Rende! Rende! Oh! Se fosse se contenga, almeno io poi la porcherò! Sarà la cinghia! Pomme! Sarà la cinghia! La cinghia? Eh, madame! Eh, madame! Voi sei po', ma io estrangì per portare le valise pesante, io prendo la cinghia! Ma si è fura! La cinghia! Va! 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 Tu non c'è più così, ma fateci delle oberge, eh! A vostra disposizione, madame! Va! Ti vado bene in pantaloni! Eh, non ti vuole! A volte con me hanno trattato bene nella nostra direzione! Ha vanti a voi, madame! L'era cura! Va, va! Va, va, va! Oh, Dio! Si è molto... A volte tro desserto, crocodile! Ma cosa sarei dei crocodili? non ho finito a perdere i tuoi carri a fare gli schivi di questa maniera non ho il zingro il mondo come lecce in basso ma il mondo che pesce dentro il crocodino andranno a rire a un anno che viene facciamo con l'agitazione della recepzione ma che pesce e ora tu che le passate è loco arrivo e voilà io lo direttore del Gran Oberg è in Galesù senza pantaloni mi fa ricevere tu l'ai partecipato io tu retta viene come la mia carla sono amici ma come puoi fare come puoi fare è in Galesù lo direttore del Gran Oberg è in Galesù tutto è in Galesù è in Galesù Non puoi mai dire su pericolo, senza un po' pioche, come puoi essere ridotto pari a causa di un dipendente delinquente. Pericolo, dove ti è? Vieni, vieni me donare i pantaloni pericolo. Non puoi pioche dire su là. Pericolo, tu vieni o po'. Non puoi venire. Tu sei che mi gieno, in galezone. Chi mi rende sui pantaloni. E a me che mi interessa, genate macchie. De grazio, dove mi sono i pantaloni. De grazio dove mi sono i pantaloni e mi gieno. Calma, direttore, resta calma. E pericolo, giusto, la derrì. Perchè io in galezone mi gieno pa'. E a me che io sono più compreciso. De grazio. E io che i più giovani i pantaloni, ti rendo più, fin e ripiare. De grazio. A valisi, hai pa' mai. No, pericolo. A veicolo, se ti ripio più fin, eh. Se ti tracciare dei pantaloni e schifo, se. A veicolo. A me, tu vorrei provare il preciso, ma ti impreciso in me vande. Oh, mia bella, sento che c'è, che te fichera su che c'è. Tutto d'ora è pitidina, è la mare di c'ambrè. E ora. Ora rende, te fudre i rende prendelle, c'ambrere simile. A te si jone cliente. Scusalo. Crianze e strumenti! Ma se le conto insomma baluscia da ciambra numero 37! Uè, portier! Questa racchetta ha la donna più mio papà gran. Lo premiamo che la pria funicolare doveva creare. E in sua mano sono un puerto, vuoi farla lavarli, le papà scevio. L'ha ragione. Come l'ha ragione? In sua mano sono un uo in mattina. Sono solle e paia tutte. Ma il pulito dei uoi mi sono rendato il puerto di qui. Preggiamo il papà di pulire le mani che sono pulito di qui. Siete pur caso. Vuoi farlavarli in Serbia. A Milano è limpia e scicca. Vuoi fare giornale. Sarà più. Ma sta tranquille! Giangino Tresiemo! Noi siamo in Val d'Utta ti fa sapere che la sua mano è in piena lì scicca un po', lì la vengono ma lì c'è gente tutti i giorni! oi 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 più la mia mamma la rimanca del papè pelato a letto. di questi pannacoli non lo so mai non lo so mai non lo so mai se frantevurse i giornali non hanno passato non lo so mai ma lì c'è un po' di papè di alluminio non lo so mai se c'è magari un po' di più della carta vera come pulito c'è non lo so mai peraltro non lo so mai non lo so mai non lo so mai la mia virà Ducrist l'archia passe a dentura contro su gru bloc di cimole che è l'an sorteg oii e voi fa sapere che è la legenda adu che è qua dentura pianta di v Gen Vincen Ma feita è furbo torna l'ombra da santa vierge Ti devo renderti i pantaloni, direttore? Tengmi li! Tengmi i pantaloni... Caramba! 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 Caramba, so! Niente che bugei! Muschè! Comprese, eh? Che capisci? E chi può bugeare, se ne cederi? Non ho reso una soffia sembra che per ecchi se gli sta a vio un maniaco è un galassone è un tò di borte voglia l'hai violon C'è un galassone, niente assolutamente niente, tranquillo Ma sarà più di più passare con c'è sull'ader di pantaloni Penso a che ieri non c'è ben vero andare Ah, e dunque se le vedi che lo mondo torna io l'attendo, se vi tolta o tornerà a passare no? Se voi ingrava pa approfitto di vostre carie perché io è una fiacca io non voglio non c'è che non c'è non c'è che non c'è ma sono contento che qualcuno lo riconosce non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è bene ma di chi sono i pantaloni eh pantaloni? che pantaloni? che pantaloni? la fiacca lo sa io c'è chi sono Monsiglio Direttore lo sa io madame ma carabinieri ma c'è i pantaloni? ma c'è sono che la nostra ciambrera l'impia per pulire la pusa l'isalanche l'iverro rende altro che d'estrati che fanno schiva degrazione ah ma c'è anche io oltre dell'anno eh perchè io da ci sanchilotte mi piace più devo dire che vorrei anche vedere lo io che 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 torno venite più tanto che voi mette in caserma ma ma per griffiare pagina betta nirso che lo maniac l'ai pa lì ma si pantaloni ma si pantaloni due due mezzo pantaloni degraziato in pericoli due mezzo pantaloni pericoli arresta due pantaloni po due mezzo pantaloni Dio, non mi fa prendere, non mi fa prendere Dio, non mi fa prendere Pantalo, eh! Razzadano! Dio, non mi fa prendere Dio, non mi fa prendere Dio, non mi fa prendere Ah, che fiazza Ah, dè, io ho da maniac nei patro anni Adonca, se volent a lei, ha prevelo il monsieur Alla, che fiazza Ebbene, bievo papi, madame, malo carabinier Che noi c'è che siamo dei scoccii Ah? De pantaloni per te frampo, eh! Ma peidà giustizia a cent cinquante un prest De scoccii Ma pericoli Ah? Avanti, marchi Sa, volent a laupo, eh! Eh? Eh? Incroyable! Incroyable! Le maniac l'era pas un Hieron douche E più cos'upero mio nasde N'è pas sa metotte a la fiacca de Ma l'ipurcaz L'iporchette 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 Ah! 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 Grazie. E ora la presentazione degli Attur. Lo nostro baluscia milanese, Mathieu. Bravo! La fiore celestera della mia socia, Aline. Lo nostro carabinier, Barbara. Sa ci ambreram, ci sono Daniella. La nostra pecca, Kikka. E lo nostro direttore, su cui si pišta l'ombra. L'omero, i piungi violenti, Rosse. Claudio. Lo nostro president e regista per Icle, Valentino. Applausi. Bravo! Bravo! Applausi. Applausi. E ora mi fa chiedere la parola, un altro president di presidenti, perché nemmeno. Ivano Fabre. Applausi. Applausi. Prossignoria. Prossignoria. Applausi. Intervento. alla 38e edizione del printemps teatrale. Buona sera, e grazie ancora per la vostra partecipazione. Volevo chiaramente ringerciare l'assessore che ci hanno la possibilità di avere il teatro splendido a disposizione per poter fare le nostre pièce, e le tecnici del teatro, di luce, di musica, che ci hanno dato un po' di mano a portare davanti alla manifestazione. Quindi, grazie a tutti, grazie chiaramente a voi, che continuano da venire, e spero di poter o continuare a divertire con le persone che vogliono. Grazie.